Vi diamo il benvenuto nel cuore pulsante di Top News 24. Prima di svelare gli eventi di oggi, desideriamo chiedere il vostro prezioso sostegno. Un gesto semplice, un mi piace a questo video e l'iscrizione al nostro canale rappresentano per noi un segno di importanza straordinaria. Vi ringraziamo di cuore. Aurora Ramazzotti, erede del talento di Michelle Hanzeke ed Eros Ramazzotti, ha brillato sin dal suo debutto alla conduzione di X-Factor nel 2015, scegliendo di abbandonare gli studi universitari per immergersi nel mondo dell'intrattenimento. Rapidamente è diventata una figura amata sia sul piccolo schermo che online, dove condivide gli sviluppi della sua vita con affetto e spontaneità. Attualmente, è legata sentimentalmente a Goffredo Cerza, dopo una precedente relazione con Edoardo Gori. Recentemente diventata mamma di Cesare, non esita a mostrare i momenti speciali con il figlio ai suoi follower. Durante le recenti vacanze pasquali, Aurora ha scelto di trascorrerle insieme alla famiglia di Goffredo Cerza, dove il piccolo Cesare, appena compiuto un anno, è stato festeggiato con grande affetto. Dall'altra parte, sua madre Michelle ha preferito godersi un periodo di relax a Dubai insieme alle figlie minori. La sorpresa delle vacanze è stata l'arrivo in famiglia di un vivace cucciolo di colore grigio, che ha immediatamente conquistato il cuore di tutti, incluso il piccolo Cesare, abituato ai gatti di casa. Il nuovo arrivato ha portato allegria e divertimento, rendendo la loro Pasqua indimenticabile. Così, tra risate e giochi, Aurora ha vissuto momenti di pura felicità circondata dall'affetto dei suoi cari e dalle attenzioni del loro energico amico peloso. E tu cosa ne pensi di questa vicenda? Scrivilo nei commenti e non dimenticare di iscriverti al canale ed attivare la campanella per rimanere sempre aggiornato.